Allora, buonasera a tutti, io sono Luca Del Bene, attuale coordinatore del corso di laurea in Management Pubblico e dei Sistemi Sociosanitari, con sede in San Benedetto del Tronto. Vi parlerò molto brevemente di come è organizzato questo corso di laurea, a partire proprio dalla sua progettazione. La pubblica amministrazione e tutti gli altri ambiti che voi vedete in questa slide, quindi l'amministrazione pubblica in senso stretto ma anche le aziende sanitarie pubbliche e anche private, i servizi sociali, le aziende che operano in questo ambito, gli ambiti territoriali, sociali, le organizzazioni non profit rappresentano una fetta consistente dell'economia del nostro paese in particolare, ma anche a livello internazionale dei paesi stranieri, anche laddove la presenza dello Stato sia inferiore a quella italiana. E questa presenza fa sì, in termini di dipendenti, ma anche di attività che viene svolta, di supporto, sia alle persone, alla vita sociale, civile, ma anche alla vita produttiva di un paese, fa sì che l'importanza di questi ambiti sia piuttosto consistente. L'abbiamo visto anche di recente in occasione della pandemia come le disfunzioni talvolta della pubblica amministrazione, in particolare in questo caso della sanità, sono state messe particolarmente in luce. Queste disfunzioni sono state molto spesso superate attraverso l'impegno degli operatori che ci lavorano, ma ovviamente il fatto che si siano verificate ci fa sorgere degli interrogativi. Gli interrogativi che questa pandemia ha semplicemente esaltato c'erano anche prima, infatti è un'occasione ulteriore di miglioramento dell'azione della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione a partire dalla fine degli anni 80, in particolare però le norme sono poi degli anni 90, è stata interessata da un lungo processo di riforma che tuttora è in atto e che punta, puntava e punta a migliorarne da un lato la funzionalità e quindi a rendere servizi più adatti dal punto di vista quantitativo e qualitativo ai bisogni individuali e collettivi e dall'altro a usare le risorse che ha a disposizione in maniera più efficiente per ottenere questi obiettivi, queste finalità e per rispettare la missione istituzionale per cui lo Stato interviene in determinati settori all'interno di un paese. Le riforme sono la base fondamentale di cambiamento, ma non esauriscono tutto il cambiamento, perché il cambiamento poi, come ci dicono gli studiosi di strategia, lo fanno le persone ed ecco perché abbiamo progettato questo corso di laurea, perché l'obiettivo di questo corso di laurea è proprio di formare dirigenti potremmo dire manager pubblici che siano in grado, non solo manager pubblici, ma diciamo personale che sia in grado dall'interno delle pubbliche amministrazioni, delle aziende sanitarie, delle aziende che operano nei servizi sociali e nelle organizzazioni non profit di apportare, di mettere in pratica e di dare effettiva attuazione a quelle innovazioni che ci sono state dal punto di vista normativo. Abbiamo individuato queste quattro aree di di particolare interesse, non solo perché ovviamente sono abbastanza note a livello scientifico e operativo, ma anche perché ci siamo nella progettazione di questo corso, potremmo dire integrati con gli stakeholder locali, con i referenti delle aziende dei servizi sociali, delle aziende sanitarie, delle organizzazioni non profit, in modo da dare una preparazione strettamente e puntualmente orientata alle esigenze che queste aziende e queste organizzazioni hanno. Ovviamente questa interazione non c'è stata solo in fase di progettazione, ma ovviamente c'è stata anche in tutti questi anni, il corso è stato costituito nell'anno accademico 2015-2016, quindi ogni anno e anche a intervalli più brevi, ci confrontiamo con le organizzazioni di riferimento per aggiustare il tiro rispetto sia alla struttura che ai contenuti dei singoli corsi. Dal punto di vista invece dei contenuti, il corso è stato progettato con riferimento ai principali orientamenti internazionali, infatti come vedete, pur essendo un corso di LM77, quindi di scienze economiche aziendali, non è, integra insieme alle scienze economiche aziendali l'approccio tipico del management di livello internazionale e quindi gli aspetti sociologici, gli aspetti giuridici, gli aspetti economici e statistici che possono essere utili a chi dovesse lavorare all'interno di queste organizzazioni o dovesse operare a contatto con queste, dall'esterno ma a contatto con queste organizzazioni. Tenete presente che non tutte le aziende che afferiscono a questi settori possono essere considerate aziende pubbliche, ma la maggior parte di queste aziende, per non dire tutte, in realtà poi lavorano con il settore pubblico, quindi la conoscenza dell'ambiente pubblico è necessaria sia a chi lavora all'interno di queste organizzazioni, ma sia anche per chi lavora dall'esterno in contatto con le amministrazioni pubbliche, con le aziende sanitarie pubbliche, perché la conoscenza di quest'ambiente è necessaria per capire come poter rapportarvi in maniera efficace. Quali sono le principali prospettive occupazionali? Beh, è una laurea magistrale, quindi dà diritto dall'accesso ai concorsi per dirigenti, nella pubblica amministrazione, nelle aziende sanitarie, nelle organizzazioni sociali e non profit, consente ovviamente a maggior ragione di dare la possibilità di partecipare a concorsi per funzionari e consente, proprio per le conoscenze che dà, di operare anche come supporto esterno. Ci sono molti organi della pubblica amministrazione che implicano la partecipazione di professionisti esterni e una preparazione specifica per la partecipazione a questi organi è necessaria. Pensate ai sindaci revisori o pensate ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione o dei nuclei di valutazione, pensate ai formatori. La vera capacità di far cambiare, insomma, la pubblica amministrazione e di inserire in maniera efficace, di attivare in maniera efficace le funzioni manageriali sta proprio nella professionalità che, nelle professionalità che devono essere specificamente preparate per quest'ambiente. In quali aree in particolare? Nell'area amministrativa contabile, ovviamente in senso stretto, chi si interessa di bilancio e di rilevazioni contabili, nell'area della pianificazione e controllo e anche qui si tratta della progettazione dei sistemi di pianificazione e controllo, per cui, ad esempio, tutti gli aspetti organizzativi, l'individuazione delle aree di risultato, la progettazione dei sistemi informativi a supporto del management, la contabilità analitica, i sistemi di misurazione della performance, le funzioni amministrative di supporto, le risorse umane, gli acquisti che in questi anni hanno assunto un ruolo fondamentale e che avete visto l'importanza che hanno rivestito anche nella gestione della pandemia, i sistemi informativi e informatici, gli affari generali e nell'ambito dei servizi sociali e sanitari, di nuovo lo svolgimento di funzioni tipicamente manageriali da applicare in queste particolari realtà. Tenete presente che, dal punto di vista del supporto esterno, i consulenti possono supportare tutte queste aziende di questi settori partecipando alla progettazione, alla formazione nell'ambito del controllo della progettazione delle strutture organizzative, della formazione, dell'organizzazione del lavoro e di nuovo supportando la logistica, l'acquisizione dei beni e servizi. Ci sono sbocchi professionali, come vedete qui, anche come assistente a profili dirigenziali o a profili di consulente senior, per cui voi tenete presente che, per esempio, nelle grandi società di consulenza e revisione c'è una divisione, chi avesse particolarmente interesse a quel tipo, a quell'ambiente di lavoro, tenete presente che c'è, solitamente nelle società di revisione più grandi e di consulenza più grandi, Accenture per esempio, o Ernst & Young, o PricewaterhouseCoopers, hanno una divisione pubblica amministrazione o una divisione sanità. E quindi la professionalità, la conoscenza specifica, può anche essere utile da questo punto di vista, perché ovviamente il conoscere già l'ambiente della pubblica amministrazione aiuta a svolgere il lavoro di consulente a supporto di queste aziende. Una precisazione vorrei fare da questo punto di vista, sia dal punto di vista, sia dalla prospettiva interna, cioè di coloro che avessero interesse ad entrare nella pubblica amministrazione, sia per coloro che invece volessero operare dall'esterno della pubblica amministrazione, mi preme ricordare che la pubblica amministrazione oggi è tutt'altro che un ambiente statico e altamente fermo e bloccato dal punto di vista della burocrazia. La necessità di risposta ai bisogni individuali e collettivi ne ha fatto un ambiente che probabilmente per sua natura avrebbe resistito ancora alla dinamicità, ma che si è dovuto dinamicizzare per forza di cose. Quindi anche dal punto di vista della carriera, dell'evoluzione della carriera, ci sono ampie possibilità di sviluppo e di sviluppo anche in, come possiamo dire, molto interessanti dal punto di vista proprio professionale. Quindi la pubblica amministrazione non è più il posto dove si entrava in una posizione e si faceva carriera, oppure uno aveva il posto fisso e rimaneva in quella posizione fino a che poi non interrompeva il rapporto lavorativo. Se si vuole c'è un ambiente dinamico, abbastanza dinamico, in cui è possibile esprimere la propria professionalità, la propria capacità e portare la propria capacità innovativa. Questo significa che non ci sono i vincoli della pubblica amministrazione, certo che ci sono, per esigenze necessariamente di funzionamento certi vincoli ci sono, nessuno nega che c'è un eccesso di burocrazia. Qui vorrei fare un appunto, la burocrazia che noi identifichiamo sempre come qualcosa di negativo, in realtà è un modello organizzativo che in determinate situazioni ha una sua efficacia e porta anche a una determinata efficienza. Dopodiché quando ovviamente viene usato e applicato in condizioni non funzionali può provocare ovviamente delle lungaggini. Ma la pubblica amministrazione, conoscere la pubblica amministrazione significa anche parlarne con cognizione di causa. Molti appuntano alla pubblica amministrazione problematiche, farraginosità, difficoltà, perché non conoscono come deve funzionare una pubblica amministrazione, come la pubblica amministrazione deve porsi nei confronti della collettività e dei cittadini e quali sono le esigenze del funzionamento della pubblica amministrazione. Conoscerla significa poter sfruttare al meglio e poter lavorare al meglio anche nell'ambito di questi vincoli e perché no cambiare i vincoli stessi. Se volete informazioni più ampie e anche più approfondite io vi consiglierei di leggere la scheda sua che potete trovare tranquillamente sul sito della Facoltà di Economia. Come si accede a questa laurea? L'accesso è libero. Ovviamente è necessario il possesso di una laurea magistrale o di una laurea quadriennale quindi vecchio, scusatemi, è necessario una laurea triennale o una laurea magistrale di un'altra facoltà o una laurea quadriennale del vecchio ordinamento. Chi ha una delle lauree che voi vedete indicate qui sotto ha un accesso diretto al corso di laurea dopodiché nell'ambito di coloro che hanno accesso diretto una commissione valuta, anzi analizza le domande di iscrizione e verifica se siano stati sostenuti esami nell'area della valutazione degli interventi sociali nell'area dell'organizzazione e gestione delle risorse umane e nell'area della pianificazione e controllo. Se sono stati sostenuti esami, seguiti i corsi e sostenuti esami in queste tre aree e siamo in possesso di una di quelle lauree che vedete inserite qui, l'accesso è diretto altrimenti se non sono stati sostenuti esami in una di queste tre aree lo studente dovrà sostenere un colloquio per la verifica della personale preparazione. Questo colloquio della verifica della personale preparazione per questo colloquio lo studente sceglierà una di queste tre aree e si presenterà al colloquio appunto o facendo un colloquio su pianificazione e controllo o di organizzazione di gestione delle risorse umane o sulla valutazione dell'intervento sociale. Tenete presente che il colloquio non ha solo carattere tecnico ma ha anche carattere motivazionale perché uno degli obiettivi di questo corso di laurea è anche quello di portare avanti in maniera omogenea una classe, un'aule dei diversi anni e dei diversi corsi in modo da creare un ambiente interattivo e stimolante proprio nell'ambito del corso di laurea. Questo è il manifesto degli studi valido a partire dall'anno accademico 2020-2021. Come vedete il primo anno ci sono corsi di organizzazione delle aziende pubbliche non profit, welfare e politiche sociali, management delle aziende sanitarie, a destra vedete i raggruppamenti scientifici di riferimento e il semestre, i crediti e il semestre in cui il corso viene tenuto, diritto pubblico e legislazione socio-sanitaria, marketing e fundraising, economia pubblica, progettazione e valutazione dei sistemi sociali. Al secondo anno statistica per le decisioni, diritto del lavoro nell'APA e nell'azienda sanitaria, bilancio sociale e valutazione gestionale, sociologia della salute e delle professioni e poi c'è la possibilità di scegliere un 9 crediti tra storia economica e sociale, organizzazione dei percorsi assistenziali e stagi. E abbiamo un laboratorio, il laboratorio è, mi soffermo su questo aspetto che è peculiare proprio per questo corso, il laboratorio è rappresentato da una serie di seminari che hanno ogni anno un filo conduttore, cioè trattano un argomento che è particolarmente interessante o dal punto di vista operativo o dal punto di vista scientifico, chiamando dei testimonial a parlare di questo aspetto e ha la caratteristica che l'argomento che rappresenta il tir rouge di tutti i seminari è trattato sotto le diverse prospettive che compongono il corso di laurea, perché un aspetto che deve essere sottolineato è proprio l'integrazione, la visione da più prospettive di analisi delle stesse tematiche, per cui lo stesso argomento che è oggetto del laboratorio sarà analizzato dal punto di vista sociologico, dal punto di vista economico aziendale, dal punto di vista giuridico, dal punto di vista economico o statistico, ovviamente se se ne rileva la necessità e l'importanza. Questo corso di laurea ha proprio la caratteristica di avere un'integrazione, noi abbiamo anche dei meccanismi di coordinamento orizzontale e verticale tra i diversi docenti che consentono proprio di vedere e verificare lo stesso argomento sotto angolature diverse e che ci consente proprio di dare un quadro complessivo e non appiattito su una sola disciplina, su una sola prospettiva di analisi del problema del management in queste realtà che sono oggetto di analisi e di studio. L'ultima cosa sul manifesto degli studi è che il manifesto degli studi è stato ovviamente cambiato, l'ultima modifica l'abbiamo fatta proprio a inizio anno, proprio per tener conto delle esigenze che venivano dai nostri ambienti di riferimento e quindi le modifiche che sono state fatte sono state fatte prendendo in considerazione le istanze degli studenti, ma anche la preparazione che serve agli operatori, agli interlocutori, degli ambienti in cui poi, delle aziende, delle organizzazioni dove gli studenti andranno poi a lavorare. Dicevamo, al momento dell'accesso vengono verificati i requisiti di base, cioè l'esistenza, il possesso di una di quelle lauree che avete visto indicate prima e nel caso ci sia il sostenimento di un esame, un corso di programmazione e controllo, organizzazione e gestione dei risorse umane, metodologia di intervento sociale, l'accesso è diretto senza nessun altro tipo di ostacolo, altrimenti avete visto, come vi ho detto prima, c'è un colloquio in una di queste aree a scelta dello studente ed è un colloquio sia di carattere tecnico che di carattere motivazionale. È richiesta la conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea. Se ci fossero potenziali iscritti che non fossero in possesso di una di quelle lauree che sono state indicate, il consiglio di corso di studio analizza il curriculum di coloro che intendessero iscriversi al corso e in caso di curricula particolarmente brillanti il consiglio di corso di studio può deliberare comunque l'iscrizione, la possibilità di iscriversi al corso, ovviamente seguendo l'iter normale e quindi verificando poi il fatto che siano stati sostenuti o meno esami in queste tre aree. Questi sono stati il numero dei nostri iscritti nei diversi anni. Come vedete l'anno scorso abbiamo avuto un leggero calo delle iscrizioni del primo anno che sono abbondantemente riprese quest'anno, invece sono di nuovo cresciute e quindi siamo piuttosto soddisfatti, tenete presente che è un corso molto specifico, molto peculiare e quindi i numeri che abbiamo ci confortano anche in considerazione del fatto che la campagna informativa e pubblicitaria può essere sicuramente potenziata. L'altra cosa interessante che rappresenta insomma un aspetto che mi fa piacere, ci fa piacere a tutti, a coloro che partecipano a questo corso sottolineare, è la provenienza dei nostri studenti. Ovviamente l'Università Politecnica delle Marche è il bacino di riferimento più importante ma come vedete il raggio di attrazione del nostro corso di laurea si è ampliato e non c'è solo il litorale Adriatico o le regioni che si affacciano sull'Adriatico per cui Abruzzo, Emilia Romagna e Puglia perché ci abbiamo avuto anche dall'Università del Salento. Ma ovviamente c'è necessariamente un livello di attrazione dalle regioni limitrofe, Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, però abbiamo studenti da Padova, quest'anno abbiamo, nel 2019-2020, abbiamo due studentesse da Aosta, abbiamo avuto da Milano, abbiamo avuto di nuovo dal Veneto, non da Padova mi pare da Rovigo o da Treviso e quindi abbiamo avuto diversi studenti dall'estero e ovviamente le università di provenienza possono cambiare ma insomma il raggio di attrazione è abbastanza ampio in considerazione anche del fatto che è un corso molto specifico e che dà modo a diverse professionalità di accedere a un percorso di tipo professionale sia esso accademico o operativo che è peculiare perché consente per esempio ai laureati in infermieristica o a quelli in professioni sanitarie o addirittura in medicina di accedere a un percorso professionale, di accedere a concorsi che altrimenti ci sarebbero stati perclusi. Questi sono gli anni precedenti, come vedete, dalla Toscana, dal Roma, dal Lazio, dall'Umbria, di nuovo dalla Lombardia, quindi è un raggio d'azione abbastanza ampio, ci fa piacere sottolineare che coloro che vengono da fuori regione nel corso del tempo sono andati percentualmente aumentando. Le lauree prevalenti, il dato non è aggiornato perché la composizione più o meno è la stessa, sono le lauree di tipo economico-aziendale perché questa magistrale rappresenta un naturale sbocco, una naturale evoluzione di coloro che fanno un percorso triennale di economia, sia esso nella Università Politecnica delle Marche ma anche nelle altre facoltà perché è una LM77 e, come vi dicevo, consente a un laureato in infermieristica, a un laureato in servizio sociale o a scienze politiche di poter accedere a un percorso, ad esempio la carriera dirigenziale in funzione amministrativa che altrimenti a un laureato in infermieristica sarebbe precluso o a uno in servizio sociale. Quindi unisce l'approccio di tipo economico-aziendale, manageriale ha una visione integrata e complessiva del funzionamento della pubblica amministrazione che consente anche a chi non ha un percorso di studi esattamente tarato sulle discipline di tipo economico di poter seguire tranquillamente questo corso e avere una prospettiva d'insieme che sinceramente in questo momento perlomeno non ha riscontro nel territorio nazionale. Le valutazioni che danno gli studenti sono fino ad oggi altamente positive, anzi nell'ultimo consiglio di corso di studio che abbiamo fatto abbiamo notato un miglioramento di alcune delle, in alcuni valori delle domande che sono state poste e che sulle quali abbiamo lavorato appunto per migliorare, il gradimento medio complessivo nel 2018-19 che è l'ultimo dato che abbiamo a disposizione è quasi del 91%, quindi direi che è più che soddisfacente. la frequenza non è obbligatoria, ma come vedete i dati ci dicono che il 63,6% ha seguito il 75% dei corsi quasi il 92% più del 50% dei corsi e il carico di studio è stato ritenuto adeguato dall'83,3% degli studenti e c'è una elevata soddisfazione del rapporto con i docenti. ecco, tenete presente che l'altra cosa che è particolarmente interessante è che proprio per dare questa visione integrata teorica ed operativa, quindi un supporto di concettuale importante unita a una declinazione operativa immediata il corpo docente è formato sia da appunto docente strutturato universitario ma anche da professionisti e questo ci consente di dare una visione molto vicina solida dal punto di vista del metodo e della conoscenza ma anche e contemporaneamente anche vicina alla realtà. la percentuale di coloro che si riscriverebbero è quasi del 73% tenete presente che per i primi due anni ovviamente l'indagine è fatta sui laureati per i primi due o tre anni il 100% si sarebbe iscritto di nuovo al corso di laurea anche il placement è tutto sommato, tutto sommato no, il placement è altamente positivo dopo un anno il 50% risulta occupato vedete qui la percentuale il 100% utilizza in maniera elevata le competenze acquisite vedete il confronto con la media di Ateneo e l'80% dei laureati come vedete a un anno dal titolo dichiara di lavorare con una formazione retribuita che è comunque una percentuale superiore a quella di Ateneo quindi anche dal punto di vista del placement possiamo dire che i risultati ad oggi del corso di laurea sono buoni quali sono i nostri punti di forza? e andiamo rapidamente alla fine il rapporto docenti-studenti c'è un'elevata interazione e collaborazione con gli studenti vale la pena sottolineare da questo punto di vista che i titolari dei corsi spesso invitano a fare seminari operatori e testimoni privilegiati e quindi anche nei corsi che sono tenuti insomma da docenti dell'università c'è sempre il momento di declinazione operativa di quello che viene detto c'è l'attività di laboratorio o sul campo alcuni lavori prevedono alcuni corsi prevedono dei lavori sul campo o anche gli stessi lavori di tesi hanno una proiezione operativa molto importante operativa non significa meno importante dal punto di vista teorico perché si fanno progetti di analisi e di ricerca aventi un carattere applicativo ma con il rigore del metodo scientifico e come vi dicevo in questo momento non ci sono altri corsi che entrano in questo segmento in questo particolare segmento che si inserisce anche nell'ambito del percorso evolutivo che il nostro paese deve seguire nell'ambito dello sviluppo in senso internazionale ed europeo in particolare io avrei terminato la presentazione ovviamente se ci sono domande grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io volevo sapere se è possibile seguire le lezioni online preferibilmente e eventualmente venire solo in facoltà per fare gli esami. Allora, la frequenza non è obbligatoria. I docenti che usano materiale che non rientri nei libri di testo reperibili in biblioteca o in emeroteca, mettono tutto il materiale sulla piattaforma Moodle. Per cui, teoricamente, la preparazione potrebbe essere fatta senza venire a lezione. Non c'è dubbio che un corso di laurea magistrale e un corso di laurea di questo tipo ha nella partecipazione e nel confronto durante le lezioni un valore aggiunto. Però, dal punto di vista, molti studenti sono studenti lavoratori, per cui seguono con fatica. La percentuale è comunque alta, ma c'è anche chi non segue. Quelli che vengono, che sono iscritti da altre regioni molto lontane, seguono ovviamente meno. E quindi è una cosa che si può fare tranquillamente perché il materiale è tutto a disposizione e i docenti sono molto disponibili eventualmente a integrare laddove gli studenti chiedano. Ma tutto il materiale è disponibile sulla piattaforma Moodle. Quello che è in più rispetto a libri di testo, articoli che non siano già disponibili con altre forme. Poi volevo chiedere un'altra cosa. Se eventualmente alcuni esami è possibile farli alla Facoltà di Economia in Ancona invece che a San Benedetto? Dunque, la sede formalmente delegata agli esami è la sede di San Benedetto. Dopodiché, la sede di San Benedetto è una gemmazione della Facoltà di Ancona. Le date degli appelli sono tutte fissate presso la sede di San Benedetto. Come dire, regola sarebbe che si facesse a San Benedetto, dopodiché rispettando tutte le normative che regolano lo svolgimento regolare degli esami, se queste prevedono la possibilità di svolgerlo a Ancona, si può anche svolgerlo ad Ancona. Va bene, la ringrazio. Buonasera. Luca, scusa, mi senti? Sì. Elena chiede di intervenire. No, 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 semplicemente rispetto a quella domanda che aveva posto la studentessa prima, che riguardava la possibilità delle lezioni online. In realtà, diciamo, per rimuovere ancora non è stato previsto. Se ne è parlato molto negli anni precedenti, visto che è considerato che molti studenti sono studenti lavoratori, e quindi è un pensiero che noi abbiamo avuto rispetto a questa modalità. Oggi come oggi, e diciamo, con queste problematiche che stiamo affrontando, ci hanno costretto a fare una didattica online e forse questa può essere l'occasione anche per prevedere non l'intero corso, ma magari una parte di esso attraverso il learning, che cosa che peraltro già avviene, ma magari incentivandolo un pochino di più, per dare la possibilità anche agli studenti che sono fuori di poter usufruire dei corsi. Sì, sì. Rispetto invece alle... Sì, scusa Luca. Prego, no, no, grazie dell'intervento. Volevo dire che nel secondo semestre, in realtà, tutti i corsi, seppur con modalità diverse, sono stati fatti online. Alcuni corsi, negli anni precedenti, hanno sfruttato la modalità e-learning che è prevista dalla facoltà. Ok, ora, non sappiamo come reinizieremo ad anno nuovo, però la possibilità di fare le lezioni learning c'era anche prima, per una percentuale, non per tutto il corso, ma per una percentuale del corso. vediamo se, a seguito del... appunto di... quanto diceva Elena, saranno presi i provvedimenti, poi in futuro, verrà data la possibilità in futuro di poter incentivare questa modalità. Però, questo è ancora in... in ipotesi, diciamo. Sì, invece, per quanto riguarda la possibilità di fare gli esami nella sede di Ancona, niente di più di quello che ha detto il professor del Bene, però, in realtà, diciamo, la regola sarebbe appunto quella di fare gli esami nella sede istituzionale del corso, che è a San Benedetto. Poi, è evidente che non ci sono rigidità da questo punto di vista, e che se, per venire incontro agli studenti, magari può capitare di derogare, però deve essere vista come una...